Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di luogo con Platinum Se avete sentito qualcuno è Nicola Carlisi Siamo a casa sempre con i miei nonni Perché non hanno una conoscenza Buona parte Quindi Carlisi sta Nel suo rivale malissimo Perché anche lo sta giocando con Platinum Però E non dico il nome Per favore perché deve essere Per favore Per favore Oh wow Per favore non puoi dire qual è il corso 25 Cosa ne prende la fila d'ora Ah e da tanto per sempre Per favore Per favore Oh mio dio carinesi non puoi minacciare un tizio che nemmeno conosci a sganciarti un po' ecco bell'occhio basta che vai in una polva controlli ci sta è nella prima polva non c'è idea brava di lusina bello stai sclerando carinesi c'è già per la vincesta tranquillo dopo la seconda palestra il professore non lo rivede tutto domandica l'ho rivedito assolutamente dopo la settimana l'ho rivedito 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 tanto quello che mi sta besta parli di quanto scleri oggi non ci sono tutti c'è poco carlissi si prende l'azzeri frate l'ultimo controllo ah frate fatti vedere la tua faccia salve ecco lo nicolò carlissi non fare l'impedante frate ciao iscrivetevi al canale continuo fra e cosa? no vabbè guarda lo stavo facendo lucinda l'ho capito che mi devi ringraziare perchè sono un pro visto che scontri grazie sai che rugito che abbassa l'attacco fra si lo so si se te lo spamo si non sto spavendo io pure compro bello ma compro 12 PS veramente? si no ok perchè conti più di a 6? vinti? no non sono lì adesso ah quindi eri a 20 quindi più di norma nella no no si appare ma vai col paese eh sono avanti no attento intendo arrivare 70 commettevo che la lega commettevo che tipo alla lega sa perdere un botto di volte io la torno alla lega mi fermerò alla prima palestra come? ma fra la cosa che mi piace è se vince da meno quando mi dicevi ma quindi fai fatto col diavolo oooh non lo posso vedere lì Carlissi fai fatto col diavolo eh ora ho capito perchè sei ricco 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 io non non e allora sono lì qui, ti danno uno stipendio c'ho quattro stipendi lui li ha faticati adesso mi è venuta in mente una torre è vero, poi sono tutti quegli altri mi prezzo, mi prezzo, mi prezzo, mi prezzo qui la faccio in mente battere, perché mi ha fatto il cuore che non è vero la faccio in mente qui c'è lui vabbè ce l'ho vabbè ce l'ho dovete andare a scuola uccidetelo supervi no no regalo non è che uccidiamo i pochi no vero Fran no che uccidio non è che uccidio mi prezzo non è che uccidio non è che uccidio ma è che uccidio non è che uccidio non è che uccidio e anche io non è che uccidio ma è che uccidio ti credo stai facendo la nazione si troppa fio volevo vedere il ramo perdo la nave perdo la nave no, nel caso che io non mi faccia perdere la nave perdo la nave ... ... dai cricotot ... ... ma fra ti ... come lo chiami schiava ... perché alla fine il B-d-Servo come schiava e me ... non dire che l'hai conosciata ah quando se l'hai comunque catturato quando sarà un inferno e che sarà un'armata guerra oh rica forse mi piace questa parte mi sa volendo mi piace non si volvete l'appare il l'approbato diventare a dove scontrivo il lavoro con il bambino E' un bel giro, non è male, non è male. Dio, non è male. Dulla! Non ho cricolato. Vieni, che attacca! Vieni, che attacca! Adoro, vieni. Perchè diciamo di potp�u ma prato. Ma gli ud dà, di accionamento! Perchè da dire non mi dico più? Pizzotto. Non c'è ne", pizzo. Boh, nega servizio. Eh, non c'è neanche. No, non c'è da tizia, perchè non mi devo dire più. Ah, non badullo. io devo prendere la mandata ma devi andare in alto in alto? è lì ma lo faccio ma frate non lo posso allenare? ci ballano in questo modo si però ma c'è, alleluia sempre lo sappiamo tutti che fin farà cincere che le punterà al 50 alla seconda palestra ma se volve Viglap frate se volve Viglap rega Viglap se volve guarda vai Viglap abbiamo un Primplamp un Primplamp che bellone che bello che bello che bello non è forte è forte è forte è forte è forte è forte vuoi dare che è un modissimo è forte 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 ci porto io dopo dopo appena finisco il video due minuti ci vuoi fare nottele soprattutto un po' di like di orville no 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 non ce la diciamo di orville no 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 non ce la diciamo di orville un like non mi piace la mente no per ora uuuu no scherzo non li chiederò male non lo scherzo non lo scherzo io vado a pompare ma basta portarlo poraccio perché tu già lo vuoi pompare certo fra le parole e noi ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti